Musica Buonasera e benvenuti a una nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca, precisamente con la tragedia di Santa Lucia di Serino. Stamani e nuovi sopralloghi sul luogo del delitto da parte degli organi inquirenti. Ma vediamo tutti i particolari nel servizio. La piccola comunità di Santa Lucia di Serino è ancora sotto shock per il tragico episodio che ieri ha visto la morte di Anna Tavino e del suo compagno Alessandro Mariconda. Personale della scientifica e inquirenti sono ritornati questa mattina nel centro, alle pendici del Terminio, dove ieri pomeriggio il muratore saltuario Alessandro Mariconda ha trucidato con almeno tre colpi di pistola alla sua ex compagna, prima di fare ritorno a piedi presso la propria abitazione e suicidarsi. L'uomo, dopo aver commesso l'efferato delitto, si sarebbe barricato in casa e all'arrivo dei carabinieri avrebbe commesso l'insano gesto. Oltre a non accettare la separazione dalla donna, datata novembre del 2011, Alessandro Mariconda probabilmente aveva cercato l'ennesimo aiuto da Anna Tavino. Cosa si siano detti i due in una precedente telefonata per adesso resta ancora un mistero. Acclarato invece è il fatto che tra i due da tempo ormai il dialogo si fosse trasformato in un costante litigio, malgrado una separazione firmata in maniera consensuale ed un divorzio già fissato per novembre del 2014. Le forze dell'ordine hanno interdetto al traffico anche oggi via Moscati per permettere agli inquirenti di effettuare gli ultimi rilievi in modo da capire l'esatta posizione dalla quale Mariconda ha esploso i proiettili mortali per la sua ex compagna. Sotto sequestro anche il fabbricato dove l'uomo risiedeva. È in gravi condizioni una 63enne investita sulla statale 90 delle Puglie a Rione Cardito ad Ariano. La donna è stata attravolta da una vettura mentre attraversava la strada. L'investitore ha subito lanciato l'allarme. Sul posto sono giunti sanitari del 118 che hanno trasportato la donna in ospedale. Passiamo adesso all'attualità al via lo screening sanitario sulla popolazione scolastica di Borgo Ferrovia, il quartiere della città capoluogo dove sorge l'ex fabbrica dei veleni dell'isochimica. Stamane in conferenza stampa sono stati illustrati i dettagli. Vediamo. Professore Annunziata parte lo screening a Borgo Ferrovia e si inizia dai bambini che frequentano il plesso scolastico francesco tedesco. Sì, partirà sicuramente a giorni, che oggi è soltanto l'insediamento di quello che è il gruppo, chiamiamolo così, di studio, task force, come meglio le pare, che si interesserà, per quanto mi riguarda, considerato che l'amministrazione pediatrica, io mi interesserò della popolazione scolastica del plesso che insiste nel territorio dell'ex isochimica. Che cosa può emergere da questo screening? Spero nulla di patologico a carico dei bambini e spero, e dico anche con cognizione di causa, non solo spero, ma considerato che i danni da amianto ci mettono molti, molti, molti anni per emergere, per esprimersi, si spera proprio che nel bambino non andremo a trovare nulla di importante. Appello del sindaco Paolo Foti, che ha così commentato i recentissimi episodi di vandalismo verificatisi in città. Degrado e vandalismo vanno combattuti insieme, questa amministrazione da sola non ce la può fare, se tra i cittadini non si riscoprono spirito civico, coesione sociale, senso di appartenenza. E chiudiamo adesso con lo sport, ha fornito l'assit vincente al compagno Ciano nel match interno contro il Latina. L'attaccante Biancoverde, Raffaele Biancolino, analizza il pari rimediato contro la squadra di Breda. È il buon momento che sta vivendo come calciatore dell'Avellino. Vediamo. Sì, diciamo che è la testa. Tutto fa parte della testa. La tranquillità, le motivazioni, la fiducia. Più che altro la fiducia che ti fanno sentire i compagni, l'allenatore, la società, ti fanno sentire ancora importante. E questa è la forza in più che uno ha. Ma è partito tutto da questo. Anche se l'ho sempre detto che a D'Avellino facevo fatica ad andare via. L'ho sempre detto che questa è casa mia e non volevo andare via. Però ancora una volta, dopo l'ok della società, dell'allenatore, che non c'era nessun problema a rimanere qua e a togliermi dal mercato, questo ti dà ancora più forza. Con le parole di Raffaele Biancolino termina l'edizione serale del nostro telegiornale. L'appuntamento si rinnova domani. Un augurio di buona serata. L'appuntamento si rinnova.